Ogni casa ha un numero e una storia da raccontare, ma le storie non sono tutte belle. Alcune, le più difficili, spesso riguardano le bambine, i bambini o gli adolescenti. Per queste storie esiste un numero. È il 114 Emergenza Infanzia, il numero di pubblica utilità, gratuito e attivo 24 ore su 24 per chiedere aiuto o segnalare problemi nei casi di violenza sui minori. Non aspettare, contatta il 114 per telefono o con l'app o con WhatsApp. Riscrivi la tua storia.